È di nuovo amore tra Manuel Bortuzzo e Lulu Selassie. Dopo un periodo di maretta, ora le cose tra i due vanno a gonfie velle. Solo qualche giorno fa, Manuel ha allietato la coinquilina con un massaggio ai limiti del film a luci rosse Coccole sul fondo schiena, dolcissime, tanto che in molti hanno commentato sui social con molta ironia. Da allora i due si sono riavvicinati e non poco Ma non è finita, perché dopo qualche ora dal massaggio erotico, i due sono passati a dei teneri abbracci e infine a un bacio appassionato nel cuore della notte Poi Manuel Bortuzzo si è spinto decisamente oltre con quella che può essere definita una dichiarazione per la Selassie L'ex notatore ha detto, abbiamo investito parecchio tempo per capire tante cose, è servito per capire come rispettarci a vicenda Tante volte ho sbagliato io, invece che affrontare il problema con amore lo affrontavo con nervosismo, tante volte sarebbe bastato prenderti e abbracciarti E ancora, non ho messo in luce tante cose belle che ci sono. Forse la cosa più bella è che nonostante tutto sei ancora qua. Sono state queste le belle parole di Manuel Bortuzzo a Lulu se la si è Ora Manuel ha detto qualcosa di molto forte alla giovane, appena esci ti sequestro, ti lascio un po' per la famiglia però finiti i giri familiari, sei mia. Lulu ovviamente non vedeva l'ora ed ha risposto amore, mi ammanetti Lo stesso messaggio inviato da Clarissa Lulu in cui le ha suggerito di volare da sola ha destabilizzato Manuel Bortuzzo che si è così sfogato Mi dispiace che fuori non sia stato capito quello che c'è stato fra noi, Clarissa ti ha detto vai da sola, questa cosa mi è dispiaciuta. Non posso pretendere che tutto sia capito, per questo mi dispiace Anche in questo caso la principessa ha cercato di tranquillizzarlo, abbiamo avuto dei momenti di no, ma non è successo niente di grave, non è che ci siamo insultati o altro. Stai tranquillo Della sua confusione si era accorto persino Alfonso Signorini chiedendo al giovane di fare un passo indietro per il bene psicofisico di entrambi. Ora le cose sembrano andare alla grande, chissà se vedremo anche di più Grazie